Seguendo il principio dello spirito di appartenenza, si accostano al Taranto due importanti sponsor presentati nel corso di una conferenza stampa, Caffe Ninfole e Banca di Taranto. I loro marchi saranno stampati sulle magliette del Taranto a partire dalla gara di domenica prossima lo Iacovone contro il Casarano. Un significativo gesto che intende esaltare il concetto di appartenenza del territorio, ma non solo. Nasce un nuovo progetto, il cui garante sarà il senatore Mario Turco, nel ruolo di facilitatore come egli stesso, ha sottolineato, e cioè accorciare le distanze tra le imprese del territorio e non solo e chi gestisce le società sportive di Taranto. Un uomo politico che scende il campo, è proprio il caso di dirlo, nel ruolo di garante di questo progetto di avvicinamento tra gli imprenditori e chi gestisce le società? Sì, inizio qui un percorso di conoscenza dello sport a Taranto, inizio col Taranto Calcio, nelle prossime settimane ho in programma di incontrare un po' tutte le società impegnate nello sport a Taranto. L'obiettivo è quello di facilitare l'incontro tra le squadre sportive e le eccellenze del territorio. Il significato di questa iniziativa della Banca di Taranto a sostegno dello sport e del calcio tarantino? A sostegno dello sport e del calcio, a sostegno in realtà di tutta la città. Il nostro è un progetto sociale, quello della Banca è un progetto sociale e il sostegno alla squadra del calcio è anche in questo caso un sostegno sociale. Per noi il calcio è uno strumento per, in questo momento difficile, contribuire ad alleviare tante sorti di persone in difficoltà. Questo è il senso che la Banca ha voluto dare a questo intervento. perché così ci sentiamo ancora più parte integrante di questa terra, di questa città bellissima che ha bisogno di fiducia, di amore, che poi io penso che sia il motore che muove tutte le cose. Quindi l'amore per il Taranto e speriamo di vederci, di tornare presto allo stadio.